il magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale è tempo di fanta consigli ieri abbiamo terminato il quarto turno di serie a con le partite serali atalanta torino e bologna salernitana ma siamo già pronti perché domani alle ore 15 si comincia già con una partita niente male filentino juventus e quindi è tempo di fanta consigli quindi subito un like iscrizione al canale ragazzi mi raccomando se volete consigli come settimana scorsa i bagnez baldanzi mi raccomando sostenere questo canale con like e iscrizioni e in più mi ricordo come sempre andate a scaricare l'app di one football link in descrizione la migliore app per chi ama calcio e fanta calcio è un'app veramente importante perché vi aggiorna su tantissime novità curiosità e poi detto dovrete anche highlights e dirette delle partite quindi è un'app veramente importante e più sul fanta calcio potete metterci tutti i giocatori e quando ci saranno aggiornamenti da fare su questi giocatori l'app vi manderà una notifica quindi è veramente un'app molto molto comoda andiamo a scaricarla passerei subito alle partite non perdo altro tempo vi ricordo per chi volesse ci sono attivi gli abbonamenti sia qua su youtube che sulla piattaforma viola e per qualsiasi con qualsiasi abbonamento potete entrare nel gruppo telegram dedicato al canale e li troverete anche dei file excel come quello della rosa ideale per un fanta calcio 8 10 o i file excel con le fasce di tutti i giocatori con triplo budget che è un lavoraccio che faccio forse solo io per voi per darvi il massimo del supporto quindi se volete anche supportare questo canale avete anche un mucchio di vantaggi tra cui quello di partecipare a un fanta calcio a listone per abbonati qui ci sono 500 euro di buoni amazon in regalo per voi più altri premi per un totale di 700 cominciamo subito si parte quindi sabato ore 15 fiorentina juventus italiano è il mister che per antonomasi insieme a gasperini è il più odiato dai fanta allenatori perché non si capisce mai chi cavolo gioca meno male questa settimana in anticipo almeno chi ha i giocatori della viola diciamo ok questo mi gioca questo non mi gioca gollini in porta ma secondo me alla fine è schierabile nel senso la juve vince anche le partite ma non fa cinque sei gol poi magari fiorentina juventus glieli fa alla fiorentina però dico l'attacco della juve è un vlavic dipendente quindi magari non mi aspetto più di due gol ecco quindi potrebbe anche essere rischiato se non abbiamo grandi alternative difesa stasettimana biraghi arriva ha riposato milenkovic ha riposato dodò ha riposato ha giocato venuti la mia faccia su venuti mamma mia dietro direi biraghi si può rischiare e occhi a milenkovic sempre per i corner centrocampo barack non mi è piaciuto nonostante era ex vludinese molto timido ma lei non mi sta piacendo devo dire i centrocampisti della fiorentina non mi sono piaciuti questa settimana anzi ma lei direi in questo inizio di anno non mi è piaciuto nonostante l'anno scorso quando diciamo ha giocato è stato acquistato dalla fiorentina non avevo detto è un talento importante ce l'ho fatto anche un video su di lui qua porta a saponare icone bisogna vedere chi gioca bisogna vedere chi gioca mi aspettavo un sottile titolare l'udinese invece non ha giocato titolare me lo aspetto invece magari contro la juventus qui porta cabral perché ragazzi le formazioni le probabili formazioni sicuramente non sono aggiornate perché magari verranno aggiornate pomeriggio io sto registrando il video alle otto del mattino quindi saranno un po così ovviamente si può schierare jovic però non è la partita adatta proprio a lui infatti qui vedete cesdi ma si è fatto male quindi troveremo per in in porta dietro la juve non ha fatto male con con lo spezzi bremer si è portato a casa un buon voto gatti non mi è dispiaciuto danilo non ha poteva portare anche un bonus perché ha avuto diverse palle gol quindi ha fatto bene dal punto di vista delle occasioni però non le ha concretizzate miretti invece ve l'avevo anche segnalato detto io occhio a miretti che se gioca questo può portare un bonus è un giovane veramente interessante insieme a fagioli che però purtroppo non lo vede l'altro buon tempone di allegri come potrebbe essere anche lui giocatore interessante per questa juve è arrivato paretes non credo verrà rischiato da subito di dolare però in anticipo quindi lo possiamo vedere mi intriga un pochino meccenni se partisse di dolare e ovviamente dujan blaovic che lo ha lo schiera soprattutto poi da ex e occhio anche a kostic occhio a kostic è quadrato anche perché ragazzi è ex pure quadrato quindi non dimentichiamoci anche questo direi che i centrocampisti della juve mi piacciono molto più di quelli della fiorentina se dovessi fare una gerarchia metterei quadrato primo kostici secondo poi i miretti meccenni diciamo miretti per i voti meccenni per magari un bonus diciamo che sabato ragazzi non si può uscire a dite alla vostra compagna fidanzata moglie guarda sabato non ci sono vuoi uscire no non voglio uscire perché c'è prima fiorentina juve poi c'è milan inter e quindi non non mi va e poi la stasera andiamo a mangiarci una pizza no ma c'è lazio napoli quindi praticamente le sei squadre buone giocano di sabato domenica e cacolo ci vanno a fare le partite no si guardano uguali perché ha fatto calcio siano tutti i giocatori però le migliori partite sono riservate proprio per il sabato un derby che ci potrà dire tanto secondo me questo derby perché sicuramente il milan deve riscattarsi dopo la prestazione direi anche un po opaca contro il sassuolo in cui megnan sicuramente è stato il migliore in campo con quel rigore parato a mimmo berardi ma non avevamo dubbi che megnan è il miglior portiere quest'anno io l'ho detto praticamente in tutte le live in tutti i video che ho fatto sui portieri difensori occhio a te hernandez non so se lo rischierei sta settimana perché non so se lo rischierei è un tipo troppo fumantino con un dunfris che secondo me potrebbe fare molto bene potrebbe metterlo sia in difficoltà dal punto di vista magari del della propensione offensiva che c'è dunfris ma anche perché teo ha quel carattere la e magari rischia di nuovamente di prendersi un rosso quindi occhio occhio a te hernandez nonostante sia uno a cui piace te ovviamente i difensori centrali tomori e calulu qua porta kier ma vi ripeto sono formazioni vecchie sono giocatori che si possono schierare soprattutto se abbiamo un bel mod e forse mi piace addirittura forse dico più calabria di te hernandez poi centrocampo ben sertonali ecco questi sono giocatori che potreste mettere solo per il voto non vedo un bonus da parte loro ecco sono curioso invece di vedere perché quando è entrato col sassuolo a me non ha fatto impazzire nel senso lo volevo più dentro la partita lo volevo si può dire più cazzuto cioè si può dire veramente forse perché l'ho visto un po moscio cioè io non posso tollerare che un gigante del genere si faccia buttare a terra da un metro e tanta voglia di crescere di maxim lopez cioè fisicamente non puoi cadere senza commettere fallo voi cioè non posso vedere questi contrasti fisico con ferrari l'ha fatto volare cioè cavolo sei sei un gigante c'ha il tuo fisico fatti valere quindi quello è un po' anche secondo me il piglio è entrato con un piglio sbagliato secondo me di ketelar occhio a giru perché già ha deciso qualche derby direi anche abbastanza importante leao non mi è piaciuto col sassuolo però una possibilità potreste dargliela contro l'inter ma su con i like su con i like porca miseria sto parlando del derby non del derby di milano non del derby del pizzichettone ragazzi su con i like andano vinci porta lo metteresti mai non lo metterei anche se spesso il milano qualche prestazione buona l'ha fatta però il milano io non me lo fido non credo sia quello di sassuolo dietro qui ovviamente sono me giocheranno screener defray bastoni dietro con dunfris e di marco sugli esterni di marco è molto interessante in quel ruolo la e sono convinto che giocherà nuovamente lui su dunfris mi sono già espresso che potrebbe mettere in difficoltà teo quindi fate molta attenzione dei centraloni devo dire che non mi stanno piacendo neanche screener che è uno di quelli che uno dice prendo sempre da modificatore ultimamente non mi sta piacendo vediamo se si riscattano faccio nuovamente un come dire non un inciso non un inciso ma state molto attenti a cialanolo perché è rigorista ex e sta facendo bene anche in termini di assist occhio anche a barella perché ha fatto un super mega goal ma io ve l'avevo detto quest'anno per chi mi segue video e live vi avevo detto barella tre gol so troppo pochi per il talento che c'è guardate il gol che fa è un gol straordinario bello il cross di ciala però il gol di barella di una difficoltà immensa per chi ha giocato a calcio quel pallone non è basso lui deve calzare la cambia in maniera importante e tenerla ferma e rigida in quel modo per non far andare quel pallone nella mesosfera è tanta roba è tanta roba ragazzi quindi sono convinto che barella io io su me barella se fa meno di cinque gol in un anno nel campionato italiano qualcosa non è andato perché barella almeno cinque gol a campionato ogni anno poi martinez zeko ecco qui ho qualche dubbio cioè nel senso martinez sicuro sarà titolare io me lo aspettavo anche in interleccia probabilmente l'ha fatto l'ha fatto riposare interleccia si va bene ciao ricosta ciao ciao ricosta in intercremonese non so se giocherà a zeko perché correa sta facendo veramente bene quindi qui bisognerà vedere chi giocherà magari aspettate domani correa se giocasse potrebbe essere interessante anche se quello da schierare assolutamente l'autaro ovviamente mentre passiamo all'altro big match perché settimana sono solo big match di sabato like 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 allora prima di cominciare la lazio napoli visto che vi ho chiesto tutti questi like la fortuna viene a me la fortuna viene lì dagli e coi like ragazzi la canzoncina porta fortuna è solo per voi ma lasciamo un like allora prove dell'importa allora la porta lazio sta facendo bene tolti cinque minuti di maximiano prove del è un buon portiere affidabile contro il napoli non lo metterei però che come portiere affidabile non lo metterei no perché il napoli con la lazio è sempre una lezione positiva è vero che non ha fatto benissimo per usare un eufemismo contro il lecce perché doveva portare a casa la partita ma sono convinto che il napoli possa andare a roma con la lazio e vincere quindi la porta andrei a rischiarmene un'altra dietro sta facendo molto bene romagnoni un altro votone magari qualcuno è un po poppato però il suo lo sta facendo non so si potrebbe rischiare se avete un buon mod lazari è uno che si schiera anche in queste partite importanti perché è un giocatore interessante se sta bene fisicamente per me può fare veramente molto bene una bella annata centrocampo milinkovic lo schiererei anche contro il real madrid quindi da mettere assolutamente anche se è un big match importante luis alberto non ha fatto la partita migliore della sua vita però me lo aspetto nuovamente titolare probabilmente davanti ci sarà zaccagni e credo non felipe anderson perché si è fatto male ciro immobile lo schiererei anche contro il napoli lui è un attaccante di torre annunziata su me vorrà far bene al napoli ha spesso fatto gol quindi anche se avete degli attaccanti con partite più semplici ciro immobile non si discute ecco nelle live ragazzi lo mettete mi che faccio lo mette immobile lo metti lo mette ugualmente frega nulla poi passiamo a mere che si è riscattato anche se alla fine diciamo è un portiere il portiere del napoli non un portiere di una squadretta è un portiere che il napoli ci ha scommesso quindi non è arrivato il tanto atteso che tornavas e ora tocca a lui se farà bene magari sarà il futuro portiere del napoli perché no di lui diciamo da giovanissimo già si parlava di un portiere importante infatti il napoli ha speso una cifra direi impegnativa se non erro un 25 milioni di euro per comprarlo quindi ora vediamo se riuscirà a confermare difesa sicuramente metto di lorenzo occhio a kim sui corner perché è veramente forte di testa anche se secondo me in napoli lecce l'errore maggiore lo fa lui più di osticard perché se andiamo a vedere l'azione osticard sta marcando un attaccante mentre kim resta impalato e gli dice a colombo vabbè da lì puoi calciare quello calcia gli sfonda la porta quindi infatti fatta calcio.it stavo dire giustamente gli ha messo cinque e mezzo occhio a mario rui io non lo metterei questa settimana perché secondo me potrebbe soffrire un po' lazzari centrocampo stavolta secondo me giocherà zielischi partirà titolare e lo rischierei lo rischierei contro la lazio lobot kazambagrissà si possono mettere se volete dei buoni voti dei regolaristi che vara assolutamente schierabile lo simen non ha segnato contro il lecce non ha fatto bene ecco vorrei anche criticarlo simen stasettimana lo vorrei criticare perché non mi è piaciuto il suo atteggiamento cioè caduto 20 volte in aria voleva 20 rigori cioè figlio mio ho capito che voi attaccanti volete il rigorino per segnarlo per fare più gol possibili per la classifica marcatori e va bene però cavolo c'è un minimo contatto boom a terra e non mi chieda il rigore e non mi basta cioè alla fine c'è l'arbitro c'è il bar se c'è un rigore te lo danno ma non è che se ti sfiorano oppure chiamava mani cioè il pallone preso qua e gli chiama la mano voleva la mano cioè a tre metri c'è la mano come fa l'arbitro a non vederlo che non è o comunque il bar poi non interviene il bar quindi protesti a fare ma beh queste cose mi fanno un po arrabbiare occhio occhio al allozzano perché secondo me giocherà lui e non politano e potrebbe mettere in difficoltà marusic passiamo a cremonese sassuolo questa è una partita già molto importante per la cremonese perché diciamo non sempre mi sta dispiacendo la cremonese però devi portare i punti a casa è vero che il sassuolo è una squadra importante però orfana anche di berardi la cremonese mi cercano a meno di portare un punto a casa non lo so radu non lo rischierei dietro sicuramente mettere i valeri sperando che parta titolare perché con l'inter io credo che l'abbia risparmiato per conservarselo contro il sassuolo ma lasciamo i like su valeri sul nostro valeri like se arriviamo a 500 like segna valeri ragazzi settimana sta settimana se arriviamo a 500 like segna valeri per tutti colori quali hanno acquistato valeri lasciate il like a 500 questo segno poi centrocampo non lo so perché questo si è fissato sto alvini a far giocare scalante mamma mia mamma mia ci sono tanti giocatori migliori secondo me vediamo d'attacco mi schiererei dessers perché è un giocatore che a me piace veramente tanto o che reghe potrebbe far bene occhio che reghe perché secondo me in contropiede contro il sassuolo potrebbe dire la sua potrebbe dire la sua passiamo al sassuolo consigli importa diciamo non è sconsigliato però non è neanche il migliore da mettere stasettimana cioè se avete altre altre soluzioni forse opterei per altro difesa occhio a erlic sta settimana occhio a erlic oltre ovviamente sempre a chiria copulos perché sta giocando in una posizione avanzata però erlic occhio perché di testa potrebbe potrebbe segnare quindi occhio a erlic mi raccomando centrocampo settimana sia frattesi che torsved potrebbero potrebbero bollare quindi questi li metterei stasettimana poi magari se avete un centrocampo straordinario iper mega galattico però in linea di massima sono straconsigliati davanti e qui porta berardi ma magari direi direbbe pierino ma magari e qui pinamonti lo metterai assolutamente perché ora si prende anche i rigori vediamo chi giocherà al posto di mimmo potrebbero passare al 4 3 1 2 ho letto vediamo vediamo diciamo che è arrivato laurente potrebbe già essere lanciato dentro ecco quindi vediamo cosa cosa uscirà nelle prossime ore perché ovviamente sono le formazioni vecchie passiamo a spezia bologna una delle partite più entusiasmanti no scherzo una partita che diciamo potrebbe dirci molto dal punto di vista zona retrocessione magari per lo spezia perché lo spezia non sta facendo male con la juve non mi è dispiaciuto certo hanno perso però è stata una squadra molto propositiva quindi non mi è dispiaciuto lo spezia contro la juve drongos che importa a me settimana potrei anche rischiarmelo io devo dire la verità si potrebbe rischiare occhio occhio a resa potrebbe fare qualcosa in termini di assist occhio a resa e a simone bastoni simone bastoni sempre da schierare giocatore che ho messo praticamente in quasi tutti i listoni perché è un giocatore importante listato difensore nel centrocappo vediamo un po qui chi gioca perché diciamo queste erano le probabili formazioni del turno infrasettimanale però già si l'ho visto benino quindi già si si potrebbe anche rischiare in questo in questo torno e occhio anche ad agudelo perché secondo me se gioca può far può far veramente bene davanti in zola lo consiglio questo lo consiglio assolutamente passiamo al bologna nascoruspi non mi è piaciuto ieri ha fatto una una mezza papera se non una papera completa perché quel tiro di candreva non puoi buttarglielo la nei piedi cioè veramente di a gli ha fatto un regalino e quello l'ha scartato però scoruspi male male difensori vi dico la verità non mi entusiasmano i difensori del bologna gli esterni che mi piacciono sono cassius esterno di centrocampo che alla fine di stato difensore è cambiato vediamo se partono di dolari chi gioca si potrebbero schierare nel centrocampo occhio perché settimana ha giocato vignato nell'infrasettimanale quindi bisognerebbe vedere se è soriano gioca o non gioca quindi se è titolare si potrebbe anche rischiare qualora non abbiate un centrocampo fortissimo vediamo davanti chi gioca perché settimana giusto sansone con arnautovic potrebbe tornare orsolini magari un orsolini a centrocampo me lo rischierei molto volentieri potrebbe far bene contro lo spezia e arnautovic ormai siamo già a tre gol se non sbaglio quindi giocatore importante schieriamolo assolutamente ma su con i like ragazzi questo è il secondo video di giornata su con i like un pollicione gratuito ora passiamo a verona samp doria che si scambiano i giocatori in una maniera pazzesca amione dalla dal verona è andata la samp mentre il percorso inverso l'ha fatto de paoli è tornato al verona scambi clamorosi direi dire allora verona samp montipo in porta non lo sconsiglio nonostante la difesa del verona non è la miglior difesa del campionato però non lo sconsiglio perché l'attacco della samp non è neanche il miglior del campionato e quindi potrebbe essere schierabile lorenzo montipo difesa occhio a ien perché è un bel difensore è un bel centralone forte anche di testa quindi state molto attenti potrebbe essere un buon colpo per il per il l'asta di riparazione faraoni vediamo perché non ha giocato bene infatti è uscito 45 minuti perché non stava bene nell'ultimo turno con l'empoli io mi aspetto un gol di un centrocampista potrebbe essere ilic potrebbe essere tamez potrebbe essere lazovic qualcuno porterà un bonus o assisto gol come qui il bonus c'è ci scappa quindi forse dico più ilic di tutti poi tra henry e lasagna mi aspettavo un bonus contro l'empoli invece non è non è arrivato però io continuo a insistere su henry io fossi un possessore di henry lo schiererei anche perché col maestro non si sa mai magari ci fa una formazione di quelle sue spettacolari ed henry ci fa una bella doppietta quindi occhio ed henry buttiamolo dentro ah quando devo commentare la sapdoria proprio sono sono contentissimo ma lasciamo i like a meno mi fate tornare il sorriso voi con un like audere in porta lo metteresti no no perché non mi piace la squadra proprio se dovessi rischiarmi un difensore andrei sempre solo su colli qua dietro colli e basta centrocampo io spero che sabiri non faccia il mediano perché veramente ho visto a volte sabiri giocare più dietro dei sulla linea l'ottopo dei difensori ma che io io fossi il presidente della della sampdoria prendevo anche l'allenatore dei pulcini e lo facevo allenare in serie a cioè veramente non c'è non lo posso però c'è non lo tollero proprio non c'è e da anni che anzi quando sono andato in gazzetta che quando ho vinto la giaco quando ho vinto la coppa vede la dietro c'era un giornalista che era tifoso della sampdoria io avevo parlato male di giampaolo no mi ha bloccato detto no non puoi parlare male di giampaolo quello è un maestro di calcio ora lo volevo ricontattare e dico scusa sei ancora convinto che questo è il tuo maestro no perché io qualche dubbio ma proprio piccolo ce l'ho tra i due chi aveva e chi avesse ragione allora comunque sabiri alla fine sempre da schierare perché un giocatore offensivo sperando giochi sulla tre quarti sperando giochi sulla tre quarti non vado a fare altri ruoli difensivi ciccio caputo non è partito titolare quindi me lo aspetto titolare speriamo si possa sbloccare diciamo che io forse tolto sabiri non andrei a metterne altri se non sto veramente messo così così ecco una partita interessante udinese roma udinese roma è una partita molto interessante silvestri sta facendo bene dopo la prima imbarcata contro il milan si è ripreso e ha fatto bene però non lo schiererei contro la roma perché la roma ha un potenziale davanti veramente importante dei difensori mi piace tanto udoggi udoggi anche contro la roma si può schierare magari non ci porterà i bonus però è un giocatore interessante quindi si può schierare becao sta facendo bene però con la roma un po di paura a qui porta masina ragazzi ma masina è rotto sapete che qui non sono aggiornate le formazioni becao solo in casi estremi che non ho chi mettere se no settimana ci rinuncerei nonostante il buon inizio di stagione di becao nel centrocampio ve lo ridico occhio all'ovric sta facendo bene sta salendo in cattedra è un giocatore molto interessante quindi non sottovalutiamolo di pareira ve l'avevo già detto è un buon giocatore ma io se lo devo pagare il 5 per cento non lo compro in sede d'asta e alla fine non è che stia portando qualche buon voto ma non più di quello davanti beto ha è tornato a timbrare dopo la settimana scorsa anche questa settimana nell'infrasettimanale è un giocatore che alla fine si ha fatto due gol semplici però ho visto anche qualche azione qualche bella lungo vuol dire che già non dico che sta fisicamente a posto però è a una condizione fisica accettabile ed è un nome che si potrebbe rischiare stasettimana anche dell'ufeo non mi sta dispiacendo è molto sfortunato dell'ufeo devo dire questo se non è arrivato ancora il bonus pesante è perché molto sfortunato passiamo alla roma rui patricio sta facendo bene perché alla fine il portiere fa bene spesso se ha un buon centrocampo che dà copertura è una buona difesa che un buon centrocampo che fa filtro è una buona difesa che sta difendere ecco smalling lì che sta facendo un'annata importante rui patricio rui patricio potrebbe fare veramente bene oltre a smalling andata importante i bagnez io ve l'avevo detto nell'inciso occhio a roger i bagnez che potrebbe segnare da un piazzato infatti da corner svetta in una maniera importante entro l'ani ha fatto un gollazzo ovviamente poi l'ho sponsorizzato sui vari social anche per far capire alle persone cioè non è sempre che uno deve consigliare solo i top può consigliare anche un roger i bagnez d'annata che ti fa gol e poi effettivamente ti fa gol settimana vi dico occhio a mancini occhio a mancini ecco l'inciso lo faccio sul mancino e dici ma che fai l'hai fatto su smalling e ha segnato hai fatto sui bagnez e ha segnato non lo faccio sul mancini perché manca solo lui secondo me vuol dire se roma un buon giocatore un buon difensore della roma che potrebbe segnare è proprio mancini quindi occhio a mancini occhio a mancini inciso grande quanta una casa su mancini centrocampo sicuramente è da schierare anche spinazzola che qua non vediamo perché formazioni non sono aggiornate però spinazzola è sicuramente un giocatore da schierare poi e sharawi si è fatto male quindi io presumo che pellegrini possa andare a giocare dietro le due punte ebram di bala o accanto a di bala in base a come lo vedete un po' in informazione anche se anche se per me di bala sta facendo tanto la seconda punta perché sempre lì davanti rispetto anche nella juve che lo facevano tornare a centrocampo lo vedo molto più offensivo sono me segna ebram stasettimana potrebbe tornare al bonus pesante dammi ebram forse più di di bala nonostante di bala abbia fatto una doppietta e quindi dovrebbe essere più consigliato però i like non li vedo però io i like non li vedo vi sto guardando ragazzi se non lasciate il like non vincete neanche la la giornata non vincete lo scontro cioè io per dire fatta cazzo di youtuber quello mantra ho vinto perché ho vinto lui fa zero gol gli ho fatti due e ho vinto ma perché lascio i like ragazzi non perché le squadre forti perché lascio i like allora monza atalanta di gregorio in porta lo metteresti ma anche no se non prima via stroppa io portieri del monza non ne metto e non lo so neanche i difensori perché se carlos augusto mi gioca lì lo potrei schierare se carlos augusto mi fa il braccetto la al posto di carboni ma anche no perché carlos augusto non è un difensore birindelli è un giocatore interessante si potrebbe schierare stasettimana birindelli ecco faccio un piccolo inciso un altro piccolo inciso su pessina ragazzi se pessina parte titolare potreste buttarlo dentro occhio a pessina per il bonus occhio a pessina per il bonus occhio davanti caprari petagna io ve lo ridico a me piace più petagna di caprari quindi tra i due se devo schierare schiero sempre petagna passiamo all'atalanta l'atalanta musso ieri alla fine ha preso un gol però l'atalanta rispetto all'anno passato sta facendo meglio dietro si può schierare secondo me non è proprio sconsigliato dietro l'atalanta zappacosta ieri ancora l'ho visto fuori condizione secondo me potrebbero giocare atebor e maele osopi dall'altra parte preferisco adebor a mele poi dei difensori toloic è andato vicinissimo nuovamente al bonus quindi occhio si potrebbe rischiare e ho visto un grande demiral ho visto un grande demiral perché ieri sanabria ha visto poco palla con demiral quindi occhio potrebbe essere un bel giocatore soprattutto da modificatore ecco quello che mi aspettavo è un copp minor rigorista perché secondo me se non si fa male zapata li calcia li calcia zapate rigori zapata si fa male malinoschi non è in campo mure non è il capo e copp minor se pese rigori ne fa tre ecco su questa tripletta non ci avrei scommesso neanche un centesimo invece copp minor nonostante sia un giocatore che l'ho portato l'anno scorso in un video definendolo un giocatore importante perché è un giocatore che vede gioco sa far gioco molto tecnico sa calciare i piazzati ha il tiro da fuori una bella castagna quindi era un giocatore molto interessante quest'anno si è preso il posto titolare anche meritatamente poi sulla tre quarti secondo me giocherà malinoschi settimana e lo schiererei ederson non mi è piaciuto più di tanto secondo me potrebbero giocare pasalic malinoschi e davanti occhio al no al nostro direi oilun perché io ve l'ho portato il giorno stesso che è arrivato definendolo un giocatore veramente fortissimo e ieri devo dire che in tanti nel gruppo abbonati si sono si sono stupiti dice come mai non è entrato muriel è entrato il giovanotto che ci dicevi tu e questa è la fiducia di gasperini ragazzi è la fiducia che gli da gasperini perché nel momento in cui tu preferisci oilun a muriel declassi muriel e dai un'enorme fiducia a questo ragazzo quindi occhio nelle aste potete prenderlo e vi ho messo anche il budget percentuale nella lista nel file excel andate a guardare il video passiamo velocemente a serenitana empoli una partita interessante ve l'avevo detto sepe si può schierare col bologna sì secondo me la porta della serenitana è stata sottovalutata dai più io invece sepe l'ho preso me l'hanno lasciato sempre a uno a due tre crediti io la prendo la serenitana ha fatto una gran squadra sono anche contento di prenderlo dei difensori mazzocchi mazzocchi schieriamo mazzocchi sta settimana ragazzi mazzocchi mazzocchi schieriamolo buttiamolo dentro centrocampo ieri totò ha fatto un tiro direi normale in cui scoruspi fa malissimo e poi di ala butta dentro candreva mi aspetto un bonus quanto prima ancora mi aspetto un bonus da candreva occhio a vigliena ragazzi questo è un'autore molto interessante a me piace veramente tanto io la scommessina su di lui la farei poi davanti di ai bonazzoli son da buttar dentro mi piacciono entrambi buttateli dentro empoli vicario si sta comportando bene dopo il primo errore sul gol di insola vicario sta facendo la sua annata dietro nuovamente bene parisi un altro sette quindi occhio occhio a parisi finché in forma così mettiamolo sempre ma veramente sempre ragazzi io infatti negli stoni ne ho presi tantissimi perché costava otto crediti e mi aspettavo buona una buona annata da parisi centrocampo arriviamo a quel baldanzi che vi avevo messo nell'inciso di settimana scorsa che questo era un giocatore veramente forte ma io vi dico la verità non sono neanche rimasto stupito né dal suo gol né dalla sua prestazione nonostante sia durata veramente poco perché poi si è fatto male speriamo non si sia fatto nulla perché è un giovane molto interessante che voglio vedere nel campionato italiano probabilmente se si è fatto male giocherà bairami anche se speriamo ora col mercato chiuso che bairami non sia più influenzato dalle voci perché non abbiamo visto il vero bairami davanti non so se giocherà destro ragazzi non lo so questo però se avessi l'hammers io lo schiafferei dentro l'hammers a me l'hammers non sta dispiacendo ragazzi è vero non ha portato ancora il gol però a me l'hammers piace tanto piace tanto passiamo all'ultima partita di lunedì alle ore 20 e 45 perché cominciamo sabato ore 15 ma terminiamo lunedì alle ore 20 e 45 con torino lecce allora milinkovic ieri purtroppo ha preso ha preso tre gol però secondo me contro le lecce si può rischiare magari non vi fa clean sheet vi prende un gol però si può rischiare dietro secondo me tornerà a titolare shurs perché ieri la sua assenza si è sentita e anche tanto si è sentita e anche tanto ecco un altro giocatore da attenzionare questa settimana ovviamente quando vi faccio gli incisi di solito mi metto i giocatori tra virgolette scarsi spesso sono giocatori che magari non si schierano occhio a riccardo rodriguez occhio perché questo questa settimana può portare un bonus rodriguez occhio su rodriguez ragazzi poi diciamo degli esterni bisognerà vedere se torna singolo perché lazaro ha fatto male o la haina mamma mia cioè veramente sta con le pezze in quel posto iuric sugli esterni perché hanno fatto un rigore a testa non bene non bene mi aspetto magari un voi vota titolare magari l'unico che non ha fatto danni questa settimana me lo aspetto titolare occhio a ricci perché si è fermato nel riscaldamento dobbiamo vedere se sarà titolare o meno dei centrocampisti sicuro andrei a schierare sia vlasic ma già ve l'avevo detto che lo mettevo anche contro atalanta sia radonici perché secondo dei problemini diciamo di stanchezza dovuti più a un affaticamento ma credo proprio che lunedì lo vedremo titolare e il toro quando entrato radonici è cambiato proprio nell'atteggiamento radonici è un giocatore importante per questo torino lukic dove giocherà dietro nei due di centrocampo magari se calcio e ricordi può essere buono e poi sanabria davanti a me piace io lo metterei è vero che tolto un gol poi non ha più timbrato però a me sanabria piace che ci posso fa falcone in porta la porta del lecce sta facendo bene però contro il toro non me la rischierei difensori forse sono stato l'unico non qua su youtube ma in tutta la galassia fattacalcistica a consigliare baschirotto a inizio campionato e devo dire che anche qualcuno di lecce ha commentato sotto al video dicendolo dicendo eh ma questo è i piedi quadrati fa schifo non sa giocare pitipi 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 eh l'anno scorso baschirotto 30 partite 4 gol e ha fatto un inizio di campionato non è importante perché a parte l'errore sul lukaku nei primi minuti poi ha fatto una grande partita anche contro l'inter e il lecce dietro è tanto baschirotto perché questo è un armadio importante che non si fa smuovere da nessuno ha il senso della posizione sta facendo veramente bene ecco questa è un'altra partita difficile per lui perché il torre è una squadra molto dinamica magari eh gli possono scappare da una parte flasica davanti al radone ci vediamo un po' come si comporta però eh l'inizio di campionato di baschirotto lo voglio mettere in evidenza perché eh l'ho straconsigliato e penso che non siamo stati tanti a a metterlo sotto sotto la lente di ingrandimento eh centrocampo eh sicuramente il centrocampista che andrei a mettere anche contro il torre strefezza perché si è riposato contro il napoli perché aveva avuto anche dei problemini fisici me lo aspetto titolare me lo aspetto che faccia bene eh qui porta di francesco però banda e tanta roba io ve l'avevo detto appena ho visto eh la prima partita del 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 lecce eh contro l'inter appena è entrato cioè questo mi ha subito stupite teo purtroppo è attaccante banda perché fosse stato centrocampista il giorno dopo avreste trovato il video sul mio canale youtube andate ad acquistare banda purtroppo è attaccante quindi magari si può prendere solo una lega 10 12 come ultimo slot e poi si sei davanti non sappiamo se gioca si sei o se gioca colombo non lo so non mi fa impazzire si sei se settimana contro il torino magari mi sbaglio però la difesa del torno è una difesa diciamo importante con l'Atalanta hanno preso tre gol però se vogliamo due su rigore ma perché gli esterni sono sono un po come dire sono stati ingenui per non offenderli altrimenti la difesa aveva retto in qualche modo quindi non lo so si sei non lo metterei va bene ragazzi vi chiedo gli ultimi like l'iscrizione al canale vi ricordo perché volessi file excel che ho dei video che ho pubblicato sia quello delle fasce sia quello per come fare una tasta perfetta 8 10 basta un qualsiasi abbonamento qua su youtube o sulla piattaforma viola qualsiasi abbonamento entrate dentro al gruppo telegram e potete scaricare sia le fasce sia trovate le credenziali per partecipare a recosta fantacalci abbonati che la classifica generale quindi per vincere i premi partirà con la sesta giornata quindi prima della sesta giornata deve essere già abbonati per poter partecipare con questo è veramente tutto ciao ragazzi abbonati per poter partecipare con questo è tutto